Vedi come si stacca? Si stacca bene E' quasi pronta Ah, è pronta Qualche minuti uscite Mi piace sempre fare la stampa Per rifiutarlo Finisci il raccocolo ma pure Ma va la Io è venderissimo Converso i capelli Oh, è la UN Vengelo io, eh E' vero che chi perde Allora... Esci Ma il resto non te lo puoi mandare Quindi la del quarto sarebbe più superto Questo centro del regale Allora... Allora... Allora...